Inventavano debiti tributari inesistenti, per questo tre persone sono state arrestate a sassari dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria. Un'associazione a delinquere finalizzata la truffa aggravata in danno di almeno 14 contribuenti. Il danno è stato signora quantificato in circa 700 mila euro. Con la complicità di un dipendente di Equitalia Sardegna e di uno dell'Agenzia del territorio, sottoponevano ai cittadini documentazione falsa che attestava l'esistenza di debiti ed obbligazioni tributari da saldare. Ricevuto dalle vittime denaro contante o assegni consegnavano moduli di pagamento F24 ed F23 falsi, muniti anche di false attestazioni di pagamento.